Bene amici, oggi rispondo a una domanda molto ricorrente che mi fate qua sotto nei commenti YouTube, sui social, spesso anche via mail, che è Andrea, ma tutti gli oggetti che provi, i gadget, i telefoni, che fine fanno? E non c'è una risposta univoca, ma è un grande dipende. E allora qua ci sono due diverse tipologie. A, che Cuba ha un 50-60% dei prodotti che provo, sono quelle cose che ho in prestito. Prestito che può essere di qualche ora, quando c'è una superanteprima, qualche giorno, molto spesso e la maggior parte dei casi un paio di settimane, ci sono anche aziende illuminate che magari mi lasciano un prodotto anche un anno, quando poi esce la versione successiva si ritirano quella precedente. E ovviamente questi prodotti, e beh, questi prodotti li uso, li provo, ma li devo restituire. E poi c'è quell'altro 40-50% dei prodotti che invece o mi regalano oppure mi compro. E sì, perché molti di voi mi chiedono, ma Andrea, compri ancora qualcosa? Sì, ragazzi, compro ancora qualcosa per due motivi sostanziali. Il primo è la grande scimmia che ho di provare cose che magari non sono in commercio, che magari sono in commercio solamente negli Stati Uniti, oppure in Cina. Devo dire che ultimamente questa tipologia di acquisti è sempre inferiore perché tendenzialmente il mondo è così globalizzato che è difficile trovare una cosa così prima in un altro mercato. Ma c'è ancora qualche caso. E poi c'è il caso invece dell'azienda che o non ha quel prodotto che a te interesserebbe provare perché magari, che ne so, non l'hanno in stock. Non è che tutte le aziende hanno tutti i loro prodotti disponibili da dare ai blogger, giornalisti e recensori. Oppure caso che capita, e qua torniamo al caso 1 perché li compro, che non vogliono farti provare qualcosa. Sì, perché c'è un'azienda che sanno che alcuni loro prodotti non sono dei punti di forza, non hanno punti di forza, non vogliono neanche troppo comunicarli. E allora banalmente non te li danno in prova. Quindi per mantenere un po' quell'imparzialità e dall'altra parte anche mantenere i piedi per terra. Perché quando un'azienda ti dà, anche in prestito e non in omaggio, un prodotto che comunque costa 1000€, beh tu non è che hai tirato fuori 1000€ dal tuo portafoglio, dalla tua carta di credito e hai comprato quel prodotto. E vi posso assicurare che i punti di vista, quando o ti regalano un prodotto o te lo danno in prova ma non paghi tu, possono cambiare, soprattutto se si ha solo e tutti i prodotti in prova. Invece comprarsene uno ogni tanto vi consente anche di rimanere in quel mondo dell'usato, che è un po' il mondo di mia estrazione perché io ho iniziato così, comprando e vendendo telefoni usati. E quindi anche un background che aiuta nella recensione a capire anche il valore dell'usato e questo mondo. Scusate il pippone, faccio degli esempi. Queste Mi True Wireless sono cuffie che mi ero comprato. Questo Silvercrest è un prodotto che avete visto le storie su Instagram, ho comprato alla Lidl. Questo invece Honor 20 Pro è un prodotto che mi hanno lasciato. Idem Ruby, questo qua è un prodotto che mi hanno mandato e è un prodotto che mi lasciano, così come questo Gimi Proiettore. Ma allora, tutti questi prodotti che o ti sei comprato o ti lasciano, che fine fanno? Anche qua dipende. Prima di tutto, molti li uso, quindi sono quelle cose che poi nella quotidianità mi servono. Sono molti, cerco di venderli prima di tutto ad amici, parenti, conoscenti. Ho una lista infinita di persone che mi dicono, Andrea quando ti capita un telefono di quelle caratteristiche, fammi sapere. Andrea quando ti capita un lavapavimenti, un aspirapolvere di quelle caratteristiche, fammi sapere. Quindi amici, parenti. E poi la terza via è quella di venderli su eBay. Sì, io sono un vecchissimo utente di eBay, andate a vedere i miei feedback, ma tra l'altro c'è un rapporto anche di collaborazioni con eBay che è veramente di lunga data. Tra l'altro eBay che è sponsor di questo video perché mi ha chiesto di comunicare il fatto che fino al 31 di marzo c'è la possibilità di vendere qualsiasi oggetto a zero commissioni, fino a un massimo di 100 inserzioni. Io direi che ci sto dentro la grande perché devo vendere almeno per questo giro 5 oggetti e vi faccio anche vedere come è semplice venderli e in qualche modo ho scelto eBay proprio perché ha una facilità non solo di gestione dell'oggetto ma anche di spedizione perché vedrete che integra un aiuto proprio anche per la logistica. Cosa che se magari vendi su altri mercatini non hai. Ok lo scambio a mano, ma lo scambio a mano ti limita al fatto che puoi vendere solamente nella tua zona. Vabbè dai, iniziamo dal robot aspirapolvere. Messo il titolo, la categoria molto spesso la trova da solo. Importante sempre fare delle belle foto perché una bella foto attira subito l'occhio. Faccio un bel compralo subito e pubblico sì in inserzione immediatamente il prezzo. Ecco il prezzo è quell'altra variabile che bisogna sempre un attimino ragionare. Questo robot che ho pagato 120 euro, dai 60 euro direi che è un prezzo giusto. Robot fatto, motore per la bici fatto, sono al proiettore e mi accorgo riguardando le foto che ha una bottarella. Mi raccomando sempre essere sinceri e mai nascondere le magagne dei prodotti che mettete in vendita. Io ho sempre fatto così e mi sono sempre trovato bene. E tra l'altro anche per Honor 20 Pro e le Mi True Wireless 2 di Xiaomi io ho messo il titolo e automaticamente eBay mi ha proposto tutte le caratteristiche delle cuffie in modo che io non abbia dovuto compilare tutti i campi a mano. E speriamo con questi prezzi di aver fatto contento qualcuno e qualcun altro si può domandare. Ma Andrea, alcuni di questi oggetti non li hai comprati, te li hanno regalati. Perché li metti in vendita? Perché ci lucri? Allora, in realtà su questa cosa ci ho pensato molto, molto, molto a lungo. Tant'è che non tutti gli oggetti li rimetto in vendita. Qualcuno lo tengo da parte per fare quella famosa asta di fine anno che mi ha fatto anche quest'anno. Tra l'altro abbiamo tirato su un botto di soldi e che do totalmente in beneficenza. Però regalare tutto quello che mi regalano diventa anche un po' critico. Perché a chi lo regalo? Magari lo regalo uno all'amico, l'altro al parente, l'altro al cugino. Però allora perché tu non mi hai regalato questo? Perché non mi hai regalato quello? Preferisco vendere a prezzi pop rispetto a che a regalare. Ma regalare comunque qualcosa andando prima a monetizzare a quelle associazioni che ne hanno bisogno. E quest'anno abbiamo fatto una gran bella donazione. Devo ringraziare anche voi a Save the Children. E che spettacolo! Ore 10 e 12 del mattino. Inserzioni fatte ieri sera alle 6. Ho praticamente venduto tutto. Sono rimaste solo le cuffie di Xiaomi. E come vi dicevo la cosa interessantissima della piattaforma è che si può direttamente prenotare e gestire la spedizione senza uscire da eBay. C'è già l'indirizzo del ritiro, il mio, del cliente che ha comprato. Tra l'altro con PayPal ho già l'accredito sul conto. Peso? Quanto pesa questa roba qua? Ammazza tanto. Direi 4 kg. Si può scegliere se punto di ritiro o, decisamente più comodo, ritiro a domicilio. Il giorno, ok, va bene domani. Quindi standard, spedizione espressa, espresso con Nexiv, UPS o DHL si può scegliere e qua di fianco c'è il prezzo del relativo servizio. Perché questa cosa è comodissima? Perché i venditori professionali hanno ovviamente degli abbonamenti con i corrieri. Io che vendo una cosa ogni tanto così è più comodo e più mi dato. Anche perché posso pagare con PayPal lo stesso PayPal sul quale mi è già arrivato l'accredito delle vendite. Scarico l'etichetta che metterò sul pacco e voilà. Fatto. Aspetto i feedback. Mentre preparavo i pacchi ho venduto anche le Mi True Wireless. E oggi che è il 26 febbraio apro il mio ebay sul riassunto e vedo Consignato il 25 febbraio, 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 Consignato il 25 febbraio. Bello, bello, bello avere l'integrazione della spedizione perché si ha sotto controllo sempre tutto. Io ho lasciato tutti i feedback. Qualcuno di voi mi ha anche già scritto in mail ringraziandovi. Anzi qualcuno prima della spedizione mi ha chiesto Andrea non è che mi fai una scritta sulla scatola? Assolutamente Luca l'ho fatto. Quindi non fatevi più la domanda che fine fanno gli oggetti che provi perché ormai sapete la risposta. Ciao! Ciao!